Come trasformazione digitale vuol dire change management? Bisogna cambiare i processi, bisogna cambiare le organizzazioni e è necessario iniziare da lì, dall'interno dell'azienda, da dove l'azienda si trova oggi e dove vorrà essere fra 5-10 anni. E questo lo può sapere solo l'imprenditore. Se l'imprenditore decide di iniziare un percorso di vera trasformazione digitale, poi potrà delegare al management e a soggetti esterni tutte le decisioni strategiche per la sua impresa. Ma non bisogna, non dobbiamo pensare che digitalizzazione significhi inserire tecnologie moderne nell'impresa. Questo è uno dei punti, è uno dei cambiamenti che questa rivoluzione sta portando nel nostro mondo ed è uno degli ultimi da affrontare per riuscire a cavalcare veramente l'onda della trasformazione digitale e non, come ormai si sente da dire dappertutto, venirne travolti. Quindi gestione del cambiamento e sistema, fare sistema. Il ruolo dei Digital Innovation Hub come Parsec Hub è proprio quello di favorire la creazione di ecosistemi e di relazioni interaziendali con gli istituti di ricerca e le università, con i soggetti e gli attori degli altri paesi europei e mondiali, perché dobbiamo uscire dalla logica locale se vogliamo veramente avere delle chance di portare trasformazione nelle nostre aziende, nei nostri modelli di business.